Un incidente autonomo che si è verificato questa mattina intorno alle 11 sulla strada provinciale per Cerbara all'altezza del ristorante Biricocco a Fano. Un 57enne di terre roveresche era alla guida di una Fiat Panda quando percorrendo una curva ha perso il controllo del mezzo anche a causa del fondo stradale bagnato. La vettura è finita prima contro il guardrail e poi nel fossato laterale. Per fortuna l'uomo è rimasto illeso ed è riuscito a uscire dall'abitacolo praticamente da solo tant'è che ha rifiutato l'intervento del 118. Sul posto oltre ai sanitari anche i vigili del fuoco e la polizia locale di Fano per i rilievi di legge. Il veicolo è stato recuperato dal Carattrezzi.